Mamma, ho perso l'assessorato, non l'aereo. Voi vi direte, ma questo cosa vuol dirci? Sta dando i numeri? No. E' quanto accaduto a Laura Di Santo, già ex assessore all'ambiente del comune di Taranto. Il 3 giugno era arrivata a Genova in aereo, prenotato tutto ovviamente a spese del comune, perché in qualità di assessore doveva rappresentare il comune di Taranto per quanto riguarda un'iniziativa relativa ai cavallucci marini che dal mare di Taranto venivano portati all'acquario di Genova e quant'altro per la tutela dei cavallucci marini. Ma mentre arriva lì, arriva anche oltre al suo atterraggio lì a Genova, arriva anche la notizia che la giunta è stata azzerata, il sindaco Melucci ha azzerato la giunta, quindi Laura Di Santo non è più assessore. Insomma, è partita da assessore e medio tempo, durante il tragitto, quando arriva lì si ritrova non più assessore. Immaginate come si sarà trovata lo stato d'animo di Laura Di Santo. Sembrerebbe di stare su scherzi a parte, sembrerebbero le comiche, ma è proprio così. Allora io mi domando, scusatemi, ma se un sindaco, ecco la mancanza, la incapacità di programmare, di progettare, qui si vive al momento, così in quel momento al sindaco è partito l'embolo, come si dice a Taranto, è partita così l'idea di dire a zero tutta la giunta e questa poveretta era arrivata lì, dietro front, con una spesa, uno spreco di dararo pubblico, perché potevi dirlo il giorno prima, caro Melucci, a Laura Di Santo e Laura Di Santo non sarebbe partita. Perché questi costi di volo, di albergo, suppongo, prenotato, questi sono stati costi e sono costi a carico dell'amministrazione comunale, non certo di Laura Di Santo, per carità, mi fa sorridere la cosa e saluto Laura Di Santo con simpatia e affetto, visto che siamo cresciuti insieme da bambini, giocavamo alle palazzine militari di Via Crispi, Via Nazario Saro, quindi nulla di personale contro Laura, ma giocavamo alla campana, alle Cinque Pietre, mi rendo conto di come queste uscite di Melucci fanno danni, fanno danno innanzitutto alla persona, perché un assessore si ritrova veramente stupefatto, ma fanno male anche alla tasca del cittadino contribuente perché praticamente è stato fatto un viaggio a vuoto. Immaginate anche la figura che ha fatto il comune di Taranto a Genova, perché lì praticamente a Genova si aspettava una rappresentanza del comune di Taranto e questa rappresentanza non c'è stata più. Passatemi una battuta, è solo una battuta, io in quei giorni ero a Genova, perché come tutti sapete io amo viaggiare, allora ho detto tre giorni, quattro giorni me li faccio a Genova, visto che a Genova non ero mai stato ed ero arrivato a Genova proprio il 2, mi avessero chiamato a titolo gratuito, avrei potuto rappresentare il comune di Taranto, tanto ero andato a Genova a spese mie in bus, albergo a spese mie, a costo zero avrei rappresentato il comune di Taranto per una questione inerente all'ambiente, ma è solo una battuta, non ho nessuna intenzione di fare accordi con questa maggioranza, mai sia, ma manco morto fare una cosa del genere, era solo una battuta per dire no, voi state mandando una persona a spese del comune e poi le togliete l'incarico, insomma questo vi fa capire proprio il modo in cui si amministra, come si dice a Taranto, a vecchie, perché questo significa, perché quando tu caro sindaco hai deciso legittimamente per l'ennesima volta di fare un rimpasto, di azzerare la giunta, fallo pure, ma almeno avvisa le persone e di a Laura Di Santo, vedi che il giorno primo, non partire perché non sei più assessore, succede solo a Taranto, chissà i cavallucci marini come staranno ridendo.